In una palazzina se due sono morosi e otto sono in regola con i pagamenti, dove cavolo sta scritto che tu mi devi chiudere l'acqua? Sono esasperati i residenti delle palazzine ex IACP costretti a fare i conti con il distacco periodico del servizio idrico a causa dell'annosa questione delle morosità nei confronti dell'acquedotto pugliese. Inquilini, amministratori di condominio e rappresentanti del sindacato hanno tenuto un sitting di protesta davanti alla sede leccese di ACP in via Monteroni. Tra i manifestanti, molte famiglie in regola col pagamento dei bollettini. Ho subito anche io il distacco dell'acqua, purtroppo per persone che non pagano, però nessuno si muove, nessuno fa niente, tutti dormono sugli allori e quindi non si può andare avanti così. Speriamo che si risolva quanto prima e che non siano sempre persone corrette e oneste a pagarne le conseguenze. Un grido d'allarme arriva anche dagli amministratori di condominio, impossibilitati a far fronte ai pagamenti degli arretrati richiesti dall'acquedotto. Mi trovo ad anticipare io personalmente e a versare 3.000 euro, dopodiché il prossimo mese non ce la faremo a pagare, ci troveremo di nuovo qui con la stessa situazione. Più volte i sindacati degli inquilini hanno chiesto un incontro in prefettura, ma ad oggi non c'è stata alcuna risposta. Roma no no